Natural experience! Benvenuti a Omoya! Arrivo arrivo! Andiamo sulla zattera! No vabbè comunque è stupendo qui! Quante esperienze? Dieci! Secondo me dieci! Raga è bellissimo si manda, si beve, si balla, si beve, tutto ben piccina mentre ballavo, mentre bevevo! Stile romanico! Super stanziato! Scusate su queste malattie si può dormire su una camera! Infatti noi stiamo andando! Maronna come sono belle! Wow che figata! Oh che carino! Questa è la camera! Piscina privata! No vabbè hai un sogno qui! Un sogno! Quasi c'è l'esittente! Un sogno di capasso! Un sogno di capasso! Un sogno di colpo!